Ciao a tutti e bentornati sul mio canale youtube in questo nuovo video ho deciso di racchiudere due clip la prima rappresenta per me l'emblema della pesca subacquea ovvero la possibilità di poter selezionare ciò che noi vogliamo pescare la seconda è una delle mie catture preferite effettuato quest'anno buona visione 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 Beh, ho evitato di sparare perché mi trovo in uno spot dove in passato ho catturato dei bellissimi dentici, come vedrete nel prossimo video Eccoci finalmente giunti alla mia cattura preferita Qui ci troviamo nello stesso spot del video precedente, ma in un periodo dell'anno diverso Siamo infatti a fine estate Inizio il tuffo sempre allo stesso modo Effettuando una lenta discesa allungo la parete, arrivando sul fondo, mi fermo e osservo la situazione Questa volta la scena è cambiata, mancano tutti quei pesci che abbiamo visto nel video precedente Però in lontananza vedo una coda di un dentice scomparire dietro i massi posti di fronte a me Decido quindi di effettuare un lento agguato, sfruttando al massimo i nasconditi che mi offre il fondale E il resto ve lo lascio gustare in silenzio E lontananza vedo una coda di un dottico Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.